Ciao a tutti, buona fortuna per la partita di sabato, siete serviti da tutto il settore e bocca al buco. Dai ragazzi, siamo tutti con voi. Ragazzi, mi raccomando, vincete contro troppiacenza perché noi ci teniamo che voi vincete. Ciao, quando è la prima squadra, spero che vinciate contro troppiacenza perché è una partita importante, quindi date il massimo e vincete. Ciao. Chiedere alla prima squadra, prima di tutto una cosa, di impegnarsi fino al fondo per salvarsi e un'altra cosa, una cosa che è mancata un po' per tutto l'anno, lo spirito del gol e oltre allo spirito del gol anche a passarsela di più e a stare più concentrati sulla partita e di migliorare quelle piccole imperfezioni che ci sono. Ciao a tutti, sono Daniel Vistoli e voglio congratularvi, o almeno dirvi qualche cosa che secondo me è risultata per la prima. Allora, questo campionato non è andato in granché, però spero che vinciate perché almeno ci salviamo tutti noi. Un bocca al lupo. Un bocca al lupo ragazzi pensava che vincete contro una scelta. Mi piacerebbe scendere in campo con la prima squadra e non muovere neanche per me. Forza ragazzi, non fallite, buona fortuna da Niccolò. Dai ragazzi, facciamo tutti il titolo per voi, dovete vincere. Ciao ragazzi, titiamo tutti per voi, vi aspettiamo i vincitori a Zanica. Ragazzi dovete vincere, più grinta e dovete giocare come avete giocato contro il proprio genza, solo che dovete fare gol. Dai soncini, devi tirare in porto così serio. Sì, io e tutti i miei compagni mi fanno perdere. Dai ragazzi, dovete vincere!